Ok, siamo tornati live Salve salve Ma già che siamo in battaglia Sì Bene, bene E così si cominciano a live Perchè non c'è... Eh beh diciamo a sacca Ma li li hai portati via tu i... Chi? Cosa? No Perché non li ho Perchè non è un personaggio... Giocante serio, diciamo Ma sì, ma no Offline li ho Offline? Online no Ma anche nell'online di ieri li avevo Ti può stare o no? Non lo so, ma tanto a lei non servono i portacchiavi Cioè, cazzo sono qua Sì no, assolutamente Ok Ok Beh, l'orso è un buon tanto 30 di vita Oh, 10 Che c'è chi no? Ok 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 Non usare fuoco nelle vicinanze di Stapoth Ma no, perché... Fa male Ok Ok, Pia Robaldi Anamapiastarion Guarda che bellino l'orso che si muore Guardi, il nano è quello più bello Eh, l'orso Guardalo Trezzi a scasso Eh, un liuto se vuoi qua dentro la cassa Io già c'ho una... un'arpa Passi... passi a me gli attrezzi da scasso Pia lì E butti a maniera il forziere è figa Prendi Prendi Ok Ok Stop comuniale Spada corta Non merito Eh, vedo, ti sono serviti Sì Ti sono serviti Ok Ok Adesso gli sono comparsi tutte le cose Ok Eh, forse... Forse dell'alchimista Porta chiavi Non c'ha il... Il zaino delle scorte da campo che non ho capito perché è venuto da me Boh, perché forse sta in party con te Boh, vado più a Starion nel frattempo Vedo come reagisce all'orso Cosa li fa allora? Ah no, si toglie Ma perché me lo devo mettere io? Eh, non mi ricordo cosa c'è di più? Destrezza o forza? Eh, più due in destrezza, dai Diciannove Diciannove Ok 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 Qui a destra il cinghiale No, non a destra il cinghiale Eh, appunto, non puoi Ok Ok Fammi... Livellare sto tizietto qui Ladro due Non serve un cazzo Ok Ok Il cinghiale è morto No, è scappato No? Eh, vabbè Andiamo a uccidere l'altro mind Sì I'd rather it be hurt Ah, proprio... Sì A ucciderlo Cioè, non ci sto a parlare con lui È uno stronzo Non mi ricordo se qua sopra c'era qualcosa o no? Eh, dove? No, lì no Non c'era niente Sì C'era solo quel baule Di fronte coniglio La cervella e basta Ok... Scimitarra goblin 38 Vabbè Quasi E c'è preso tutto? Sì, sì Eh, c'è un arco e una scimitarra Aspetta, faccio una cosa Caccio Starion e più... Gale Ok Gale viene fuori Ma Starion gli ha detto di andare all'accampamento, giusto? Sì, sì Gli ha detto di andare all'accampamento Prendiamo subito anche l'Eidel O... Eh... Sì Come vogliamo comportarci con i Tifling? Eh... buone, siamo buoni E come fai? A liberare... Sì E dobbiamo fare tutto Tutto praticamente Andare dai Goblin a ucciderli tutti E ok E poi... Sì... Adesso per far liberare l'Eidel Devi intimidire i Tifling Mmm... No... Ci sta con la destrezza, puoi ingannarli No, con la persuasione, mi sa Comunque puoi ingannarli per farli andare via Sì Vabbè, prova a parlarci dai Salvo prima di parlarci, così, cioè, possiamo ricaricare Quanto non ti fidi Zoro Arrivo, eh Foro un attimo Posso o attacco o l'intimidisco Intimidiscili E attaccare di giace, cerchiamo di tenerceli buoni Ci ho fatto venti Buono Sì, buono cosa? Dovevo fare un cinque Come Eh, messa Now Eh, pensavo avevi fatto venti, non che avevi fatto cinque e serviva No, sì Serviva cinque e ho fatto venti, cioè, potevo fare... Eh Oh, e cosa? Va bene Non l'abbiamo uccisi Va bene Intendizione arcana Ehm... Facciamo evocazione Evocazione? Trasmutazione Illusione, divinazione Invocazione Ehm... Su, guarda fino a qui No Invocazione 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 Dardo incantato Mister L'hai preso Gale, giusto? Sì Gli sto a fallire Invocazione, premimenti Ok Ok Arrivo L'hai Zell va all'accampamento Buona Andiamo a fare la... La chiesa? Ehm... Sì Che da qua sopra prendi il secondo gruppetto Esterno Ah, vuoi andare prima... Vabbè, possiamo cercare di intimidirli, eh Pure a loro Ma... Che intimidirli? Tanto sono come insieme a quelli sotto, eh Ammazziamo tutti... Aspetta che mi curo Aspetta un attimo che mi curo Andiamo un attimo all'accampamento e facciamo un... No, no, ho messo una porta No, meglio recuperiamo gli incantesimi anche di... Di cuore scuro Ah Eh... Ok, dai Capiamo pure il mantello, vero, sì Facciamo un riposo lungo e veloce Tanto... Mh... Vediamo di parlare un attimo con loro Ma... Sì, tanto lo sappiamo già quello che dicono, quindi... Sì Andiamo avanti veloce Io vado da cuore scuro Sì Ah Io non posso parlarci, solo tu Eh... Che coglioni Eh... A me non mi fa parlare con lei È cattiva Ecco, non è un buon momento Vado Apri... Allora... Ah, vabbè Posso usare il pugnale e la scimitarla Ci sta Non è buono Il cappellino, metti il cappellino di... Ma te sei fuori Come sei fuori? No? No? E' bellino, eh? Il cappellino di bestia E' bellino, eh? E' bellino, eh? Il cappellino di bestia Così ce l'abbiamo Ma il peso è basta Eh, ma ci serve Per... L'accampamento, ora Ma ne abbiamo sufficienza Per fare un riposo lungo, eh? Non ci servono quelle lì Lasciale lì E' portarsi dietro peso Inutile Allora... Mettiamole qui Ok Eh... Sei Ah, scusa Ho fatto a nulla Pensavo di sì Ok Che fai in automatico? Esatto Te le prende anche quelle lì? Dal campo? Sì, eh Sicuro Chi russa? Penso il nano Penso il nano Io non russa Penso il nano Penso il nano Perché fino adesso nessuno ha russato dei miei Io non russa Ti dico io il nano Non russa Ti dico io che è il nano Io ti dico che non russa Allora... Andiamo Ti faccio vedere come si fa Non so come si fa Aspetta Li fai cascare a tutti e due Vai con la balestra o l'arco No? Fermati Spara sopra la... Al masco Oppure se non dovremmo ucciderli Perché? Perché sono troppi Ma che sono troppi? Vabbè Ma gli altri sono morti Ci sta uno sopra Questi Sono rimasti due Palla di fuoco Gli ho tolto uno Serio Con la palla di fuoco Vabbè Va bene Mettiamo l'arco Mettiamoci qui 45 Così E basta Ma... Ma... Ma di acido lui Chi è? Ma di acido lui Ma di acido lui Chi è? Ah... Qua si... Quella è la tiziana Guarda adesso Non fare palla di fuoco contro un mago L'ho fatto anch'io Toglio uno Gale Gale Io direi Andiamo qui Andiamo qui Poi andiamo qui Gli facciamo un'onda tonante in faccia Ah per poco non c'è riso Per poco non c'è riso E quindi la fai comunque Normale Cazzo è sprecato un intantesimo per il niente No Spacciavo via la polvere No ho cliccato senza voler Cazzo l'anteporte ho sto mago Guarda lì E' un mago alla fine Dai vabbè Li faccio Stretta congelante Raggio di gelo 64 Sì questo qua l'ho sciolto Anche io l'altro Io sto a dormire Non so perché Però sto a dormire Dai Mi sono fatto riposino Perché è l'incantismo che ha lanciato il mago I rampicanti m'hanno preso Ok derubiamoli Ci hanno soldi Pomodori Spada lunga Non mi serve Ci sta un'armatura scaglie Che me la posso mettere Buona Ok Non mi cambia sta armatura del druido Va Che la mia è classe 11 Così Ok Ok Andiamo qui Allo zaino C'ha dei arnesi da scasso Figlio io E' una torcia Che me la piglio Così La equipaggiata Buona E andiamo alla porta Io scenderei No allora Sì Ammazziamo questa la porta E poi però scenderei da qua Io li ho sempre trovati Non è facile Ucciderli da qua Eh ci troviamo Tutti quanti dopo che Vabbè sì Li mettiamo in butto No li mettiamo in butto Non possono entrare tutti In una volta Quindi se ci sta Cosa dici Scassi no? O parliamo? No parlo Parliamo Facciamo inganno Serve un 10 Cioè ho più Uno Vai Tranquillo Tre Hai visto? Mamma mia E' bravo che sono Che bravo che sei Ah hai visto? Ora scassi no? Ti vedi con questa canzone Visto che sei così bravo Manco tu sai suonare Ti ricordo Se non la sfondo Aspetta questa non si può sfondare Vero Ci penso io Ci penso io Devo fare 7 O più 3 Oh lei fa Faccio un 6 Curare ferite Devo curare Aspetta cura un po' di gente Un altro Eh sì perché Prima del combattimento Arriva Uccidiamolo Vai in stealth Serio? Un nano in stealth Serio? Ah no ma ha aperto Ci sono proprio tutti Perché non ti ha visto Appunto E quindi stanno tutti quanti Lì ad aspettarci Quindi So un po' eh Noi siamo 4 però Aspetta che ricuro Non la ricuro più Ci penso io Eh aspetta che Il primo so io Metto Qui E prova a lanciare Il cortellino E dopo mi trasformo in orso Aspetta A trasformarti In orso? Sì Ma aspetta che si avvicinino Se no butti via turni Per il niente Aspetta Mi sta che non posso manco Usare il cortellino Vai tranquillo Chiudo la porta Li faccio avvicinare Aspetta Se no lancio una freccia Almeno 8 Buono Oh Su shadow Ma po' bastardi Curala Dopo E cazzo Non c'ha Eh Non c'ha Pure Ha strecato Sì Vabbè La curo io dopo O no? No Ma la trovo Quello da tocco Adesso non ho più Incantesimi La curo io dopo Dai Pieno? No E' a 15 su 17 Due punti vita Fanno Ok Voglio una sfonda alla porta Spero Lasciali fare Lasciali fare Quello va in berserk Già Quello fa dan Gale Fratello Tu dove ti metti? Qui Posso buttare L'olio Vicino alla porta Così quando lo apri Lancio la palla di fuoco E piano fuoco Appena si avvicinano tutti Lanciali l'olio Tanto rimane giù quello Non scompare Sì Ok Allora non faccio niente No Lancialo Lancialo Lancio mo? Sì Tanto non scompare quello Eh però Bvp Pure a voi Non ti preoccupare Ecco Non ti preoccupare Pro Nite 2 Ok Io mi avvicino un altro Po tipo qua Così posso usare Il cortellino E le armi Sì Lei non la cura Perché ti metti davanti La porta Cazzo Che appena apri Finisci il tuo turno Quando lo faccio io Poi ci sono un sacco Di turni loro Mi sono messo Aspetta Metto questo Così E basta Arrivo eh Mi sto Cercando di rollare Una sigaretta Che è venuto fuori di tutto Tranne che una sigaretta Ci sta anche Un drumino Mezzo Mezzo No eh Il problema è che Mi si è piegata male La cartina Mi sembrava di averla piegata bene E invece Nel momento in cui l'ho attaccata Quanto pare Allora Ci sono io E l'altro E l'altro Già c'è 10 di vita L'altro C'è 15 Che era l'arciere Questo Esamina Sì E l'arciere E l'altro Si prende un puttanoio di Quello c'è la fiaccola in mano Potrebbe da poco da solo Eh però l'olio non è arrivato fino a loro Devono venire avanti Eh sì toglietevi Quello che Beh questo va di scatto E arriva fino alla porta Ok Ecco come avevo detto Quello c'è la torcia in mano Ed è un coglione Però almeno ci sta il fuoco Che li danneggia un po' Hai sentito l'arma nel fuoco Volebbe bastardo Sì Vabbè Lancio un'altra pozza d'olio Curati Stavolta Ah no vè Lanciala dopo No lancio su di loro Su di loro dentro la porta Da loro sì Sì la da loro Fuoco Così ha pure fuoco E li fa danno Mi sposto E Uso una pozza C'è trappolato Usa una pozza Così Così E fine turno Così se cercano di venire Si bruciano Perché ci sta l'olio per terra Dall'altra parte L'oro Qua da noi sì Buona ci sta Allora attacchiamo il tizietto qua Di spade Lacerazione E via Sbilanciato Allora Quattro Quello c'è ancora Sei Con Gale dopo Lo uccido Se non ce la fai Curala Sì meglio No no curala Così pure se l'attacca Non rischia di morire Prono Buono 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 Dopo che ci sta Quello che brucia Sei alzato Sì Dai Sei Mancato Allora Ho fatto comunque due danni Vabbè Però Raggio di gelo Sei Potrei ucciderlo Perfetto Proprio sei Bene Stai pure Non posso più muovermi Allora Con te cosa ti lancio Una spada è normale Niente 84 E li faccio uno Allora C'ha 12 Tu hai shadow Vai di fiamma Sacra su di lui Con shadow Così non sbroccia Eh ma Se la muovi Tu dischi hai di bruciare Fa 6 Va bene Con 6 danni Dovresti farcela 4 C'è la seconda Se non sbaglio Boom Bella Ok E questi sto Andando Ciavellotto Rondello pesante Stivali E guanti di cuoia Sì Prendo i guanti Ah si fa il giro Non c'è un giro Ci dovrebbe essere Se non apriamo la porta Non arrivano Non ci sta Un'altra porta qua? No No Facciano loro la leva La leva Non so perché non tirano Eh Sto scemi Fai passare il turno Ah si Fammi solo spostare Così il mio mago Non muore Vado di arco Con lui E mi metto qua Ok Apri No Non dovrebbe prendere Nessuno Devono passare Sul fuoco Quindi Dai Dai Ok Gale Vai di Raggio Congelante Ok Lei si scotta Si Ha un Ago che mi viene In corpo a corpo Si Vai di palestra Sul Torga Torga Ok Manca Li vado vicino E li faccio Il secondo colpo No Rimani alla porta Ma Ci sono Un arciere Due arcieri E ci sta al fuoco Fino a quando Si mette in posizione Dovrebbero morire Quindi 4 6 Va bene Nella collo 6 No Fai Fiamma Sacra Perché Faccivi un po' Di danno A questo Sotto di me Non La fiamma Sacra Non 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 Sprake Incantesimi Non fiamma Sacra No no Quella La puoi Utilizzare Quante volte Vuoi Ok 3 Di vita E non sei morto Bastardo 11 Ti ha tolto 11 Porca troie Aspetta che ti curo Ti do questa Cora ferita Devo venire vicino a te Non penso C'è attacco di opportunità Però Non ce l'ho Grazie Ok Cerco di mettermi qua Di fianco Ah Ci aveva lei Attacco di opportunità Però c'è uno Forse con questo colpo L'ho uccisa Buono Perfetto Ciao Viaggia tre sulla giungla Bastone di ferro Non ci serve un caso Terminiamo qua Quello brucia male Sono rimasti in tre Perché Perché Uno Due No Solo in due 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 Mi curo un attimo Ok Ehm Rischio che confiamo a sacra Eh sì Vai tranquillo Tanto non Quella la puoi utilizzare No Più che altro Sul fuoco Tante volte l'ho utilizzata Contro il generale Ehm Sono fermo Come on Dove è l'altro Eh sotto qua Torga Boh Morti tutti Ehm Aspetta Non c'è Creare acqua Fermo Fermo Spengo Ah si è speso Si è spento Va bene Aspetta Di formaggio Ma se Mangiamo Oh no Ok Carbonizzati 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 Un candele Un candele Monetti Panno L'armadio L'armadio Troviamo qualcosa Questi li hai salutati Sì 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 Vabbè abiti Brutti Dentro lì niente Hai aperto la porta? No Vado apri la porta Cazzo Non lo prendi Ma zaino Dalle provviste Tutte I civi Che ci sono qua Pesano Eh ho capito Ma servono Aspetta Che vado Apri la porta Sto prendendo io Non lo prendo io Penio Ma mi serve Qua se non mi sbaglio Non c'è in giro Nient'altro Impercezione Sì Buono Ok Ho aperto la porta E i libri Ce ne sbatte Ok Cosa Puoi fare Il sarcofogo Cosa Oddio No In realtà No Cosa Un sarcofogo Con la Con la Trappola Ah È un po' dura Però In realtà No Basta tirare la La leva Lasciate allora Io intanto Vedo qua Nei forzieri Che ci sta Pergamena Da prezione Del bene Del male Ci serve Le avete Falli Tutte due No no Me ne sono accorto Che c'è Ci sta un pulsante Comunque sul muro Eh sì Ho sulla sinistra Se non sbaglio Però Pi la roba E scappa Fino a che Non finisce Il turno Tocca a me Sì Vita No Non posso Fritturare Quindi un cazzo Manco Con lui Boh Venite qua Eeeh È il turno ambientale E non ho fatto niente Perché ho disabilitato Le trappole Già Ok 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 Ma facciamo così Disattiva turni E basta Chi l'ho disattivato? Be wary Questo posto è trappato Oh c'è un maglio Eh maglio Dallo Shadow Trappato Be cautious Non lo puoi usare Sì E magli C'è anche la guida Dell'osservatore Che è una lancia Quasi quasi Me la prendo io Cazzo Eh ci sta Un'armatura pesante Chi la può mettere No Non è Non è Non è La diamo a La diamo a Dopo Che limitiamo anche la spada Vedi in quel Tarcofago Cosa c'è Cazzo frusto Questo è un spedente Che Che Quello No No Gail C'è il bastone di perro 07 Questo è uno 8 Eh diamo Sto bastoncino A lui Perché? Ma perché ti riduci a 07 Col bastone di qua? Il bastone di là Non è aperto No? Bisogna andare di qua La porta C'è la chiave Dentro al sarcofago Sì 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 C'è una Sarco Sto 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 Perché devi Scassina Quella porta Non ci serve Vabbè rimane aperta Tanto non ci veremo più qua Non si sa mai Risvegliamo la vicino E dopo ce ne andiamo Sto posto non serve più Non so Ma non si sa mai Sto 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 Buono Mi piace Svloccare Tutte le possibilità Cisti Vai vai Ok Ok Andiamo a prendere Il libro dei morti Cazzo però Qualc'è un combattimento Eh ce la facciamo Però prima facciamo Riposo Eh esatto No è quello che intendevo Però Ah si Però prima andiamo a prendere il libro dei morti Dov'è il libro dei morti Dov'è il libro dei morti scusa? Dentro alla camera Mi serve a lei a Shadowheart Te la faccio vedere Ehm Lutta un po' Tutto E' una scimitarra E' una scimitarra Qua viene Bene Cazzo Mi sa che non sono mai venuto in questa stanza Eccolo qua Questo qua è il libro dei morti non so mai faremi per vedere video vediamo se lo faccio con Arcano mi serve 15 è un po' dura però proviamo 16 buono meno 1 15 buono uguale preciso e sto libro qua praticamente si è rilasciato per sapere i nomi i nomi degli dei e questo qua l'ho fatto non mi ricordo più quante volte prendere gli access religione 10 cazzo ce l'ho io ho religione vabbè non serve non serve sono Tifling ti ricordo religione diavoli ci sta ma che cazzo ti ricordo sono Tifling ecco i due godi prima di perdono ma ora ristorati dopo la seconda tifling i pantheoni hanno rilasciato e diventato silenzemente riportato questo libro e gli hai dato un'ispirazione a Gayle e dovrebbe pure a Shadowheart anche a me anche a te perché sei c'è la religione si fai lì prende il libro a Shadowheart perché meglio che ce l'ha lei aspetta dove devo trovare tutte le cose che c'è addosso te dov'è? qua vicino alle candele aspetta che accendo le candele ah l'hai lasciato giù e non lo puoi lo devi prendere tasto destro raccogli se no se no lo legge basta così che se lo legge pure lei non so se gliel'ha dato l'ispirazione fammi vedere si gliel'ha data pure a lei ok allora niente vabbè andiamo non c'è nient'altro no andiamo a fare riposo mettiamoci qua sotto facciamo riposo cosa cazzo cambia perché vedi sotto perché è più vicino alla porta ok facciamo a parlare cazzo c'era parlare con gail si fallo tu perché si è sdoppiato il bimbo no devi farlo tu ah perché sono entrato io all'accampamento si l'hai vista questa? si è adesso ah ok allora vado ok fatto? si vai no scusa ho fatto nulla perché faccio nulla? eh non lo so ah si lui se ne va per mangiare che non lo sento due volte sicuro me l'ho sentito questa è la terza ah che? si ah ok damo se che non mi le fa lasciare l'accampamento ah ok ora si boh io rimango qua così già sono in mezzo a qua allora mi metto fino a dove posso arrivare qui qui eh cortellino svizzero dobbiamo uccidere prima uccido il guerriero ma si tre prono ma affanculo mi ho preso il chi? passaturno ah ho sbagliato ho fatto un doppio click sulla barra vabbè eh gay lo mettiamo qui sopra cerchiamo di uccidere il mago da un dartonante dardo stregato dardo stregato quattro buono fino a quando arrivi ci metti anche te problema che sono quasi tutti maghi se solo quello che è a terra è il guerriero però quello fa più danno quella cosa ok vado in mischia no 25 provo un altro cortellino sempre su di lui 8 e 6 buono vado da sta parte e lui è andato ok ok raggio geto dai 6 potresti farcela 3 va ok tocca a loro se trovi una palestra se trovi una palestra gliela io andiamo a shadow se ma dovrei avercela se ne è già si allimento critico ah ma se anche lei non è equipaggiata però va affanculo oh ci ha silenziato shadow bastardo allora di chi ci occupiamo prima sono due due sui lati io vado di qua tu sei in mischia e dopo ti mando ah no tp shadow heart io vado da gale allora così ci abbiamo ognuno uno milì e uno attacca cortellino svizzero lì non posso eh mi devo muovere ma non posso cazzo perché non può e c'è poco movimento e eh perché il terreno difficile non riesco a lanciarlo cazzo onda tonante eeeh mi devo solo trasformare e no non puoi usare la palestra o l'arco eeeh farmi adesso c'è io ah beh sì dai c'è lui non ha quello vabbè colpisco questo ok secondo attacco non posso perché sono mi ora dardo stregato su di te che c'hai tre di vita dovresti morire diciotto bravo gay allora scendi giù quasi non ti colpisce colpisce a me ah silenzia lui solamente buono cazzo 8 10 ha fatto 20 allora quest'altro lo lascio allora vengo io da te allora cortellino svizzero morto ok ok me l'ha silenziato però se mi metto qua forse no sono sempre silenziato no no ok la sblocco boom morti bravi bravi tutti andiamo nella cripta hai preso l'amuleto e tutto come ti puoi rilutare no avevo già preso un po' di roba isteria ma il resto ho lasciato cioè loro l'hai preso dai loro si loro si cioè risponato per caso loro e li recuperi cioè si può rilutarli di nuovo cosa si ok ok io direi per trasportarci direttamente senza uscire a piedi perché è lunga e andiamo al vabbine lo soleggiante si così siamo usciti fuori siamo qua vabbè meglio andare in realtà alle scogliere lungo la strada così dopo arriviamo all'altro cosa a cambiare mappa come a cambiare mappa non puoi quella è della cripta e basta devi uscire da lì sopra in alto a destra tappe accampamento rovino le sfuggianti scogliere lungo la strada clicca sulla scritta e basta ah quello hai fatto scogliere lungo la strada non ci ho fatto caso ora andiamo a prendere la ah l'hai liberata tu la tizietta eh sì allora andiamo a prendere il checkpoint che sta qua sopra poi mi fermo perché devo dare da mangiare e mangiare anch'io e ci sta un altro combattimento che dopo ci sta per entrare nel boschetto ci sta quello dei dei goblin facciamo quello e poi andiamo che ci sono pure altri dovrebbe farlo abbastanza in fretta quello capito sì dobbiamo fare un riposo però sì ok andiamo sì ok ok ah sì ci vuole mordere non ti è apparso il video di astarion che vuole no perché sei rivolto tu prima all'accampamento e dovrebbe farlo vedere anche te però ti sono unito il tuo video ah ok pensavo non te lo faccia la vede no no lo uccido no ok a me a me non piace più di tanto stas aria non lo so però un po' arrogante e non vuoi leggere cose ah ok vabbè dai facciamoci mordere così ti dà la chino me l'avevo già fatto ah ok persuasione 5 dovrei se c'è più uno 15 buono attacco e mischia attacco e mischia ok c'è il problema anche adesso tu sei sposato però sì perché mi ha succhiato però possiamo fare un altro no basta no ce la faccio ho spostato quando mi dà no ma ce la fai non è che da uno meno uno per colpire sti cazzi dai ma perché non mi fa ah ok andiamo da dove entra da sopra e ci buttiamo giù ok beh siamo quasi tutti a tanto qua ci appare un goblin l'hai visto pure questo quindi andiamo avanti ok vai monaco buono rimane uno di vita tu questi li hai salvati o son morti da te no no li ho salvati tutti buono ne è morto uno sti cazzi tanto ma che cavolo ho fatto a mancarlo sto dietro di lui ok valimento critico olio dai will 7 buono allora potresti puntare l'olio in mezzo ai 4 che ci sono giù eh lo faccio ora che c'ho willy esatto eh si willy ma cavolo sta male questo gay e vediamo di non più anche l'altro più tutti sì così sì buono ma ci serve solo un po' di fuoco perché non posso utilizzarlo io perché non posso dai dacci la carica soffia così buono allora lasciato farci a palla di fuoco lanciala sul sull'olio eh se ce la faccio eh deve andare più avanti no non ce la fai ah beh lascia sennò ci pensa will penso che ma che faccio a toglierla tasto desto del mouse ah perché devo buono così può da è morto ah berit la madonna eh si will will adesso non ci può più ma no però se noi diamo poco adesso piano poco tutti esatto non ci può più usare perché le forze sono unite che cazzo e anche perché comunque c'è will che si è messo praticamente addosso ti cazzi di will non muore due forze c'è guarda c'ha otto punti ferita in più e c'è c'ha sette quindi ci sta va bene ah un attimo no io una palla di fuoco gliela lancio dai veri tu così fanno più danno c'è c'ha 26 il warg comunque non c'ho fuoco con il mio quindi niente boh li butto il cortellino boh il mago è morto mi posso spostare se ok facciamo così buono 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 ok si è spostata quella ci sta il ghiaccio vicino non dovrebbe palla di fuoco se l'altro muore no dai no perché dopo muore anche l'altro cerchiamo di fare una run decente 10 con il raggio congelante dai dovrei farci no 4 vabbè quello è cascato ok shadow quanto è rimasto 12 di vita al warg 19 zarkug e l'altro 21 eh dura allora o prendo zarkug o il warg il warg che già sta a terra dove si aveva più chance e quello che aveva la probabilità più alta di essere colpito appunto perché stava a terra quindi bravo si sta i will i will oh ti ha curato willy bravo sbilanciato vai sul warg eh si uccidiamo a lui prima 8 di vita con la seconda dai forse 2 e il warg viene dopo gale allora lo lascio uccidere a gale io vado su bugbeer certo guarda quanti attacchi fa sto stronzo ah ecco questo ah non posso dire niente dai non ci arrivo catto arrivato qui esatto e cado lo sapevo lo sapevo è un cucciolone dai guardalo quante grossi eh normale che cazzo vabbè vado di gale allora è di dardo metto qua ok io non posso dardo perché sono su gay perché stai facendo gay uccido il tizietto qua che c'ha 5 dovrei ucciderlo ah ah ma che c'ho oggi vabbè l'ha ucciso lui e vai di shadow che uccide il bugbeer mi sa che lo uccide will o l'altro davvero davvero ora l'ha fatta cerca di uccidere il zackrug con così bella ok paradin se fa ancora tre attacchi potrebbe vabbè pure due lo uccide 7 1 l'ha ucciso? no no e allora il colpo di grazia aspetta a me e invece no ma porca di quella dai colpo di grazia aspetta a me ma dai ma come cazzo cioè vabbè sei utile in questo combattimento sei stato molto utile lo so ho buttato l'olio per terra sono stato bravo no non l'hai fatto tu l'ha fatto Gail sempre mio è Gail quindi va bene allora morningstar per Shadowheart se serve quanto fa? aspetta che non ho visto ah e più ho tutto tanto vendo poi vediamo i guanti del potere se serve a qualcuno uno scudo chiudato più due a lei dovrebbe servire per capo i guanti del potere non li usi se serve a qualcun altro non è un problema ma usali rapita di mano servono più a te che sei il ladro con destrezza manda stuff da una galang ok sono tuoi questo lo mando a cuore oscuro il morningstar e anche lo scudo e basta fammi ritrasformare in umano va come lupacchiotto faccio abbastanza schifo quindi ok hai preso tutto da tutti c'è anche il mazzafrusto fa già due nove due nove danni allora lasciamo quello allora in realtà cambia l'attacco che fanno questo qui da colpo indebolente la morningstar spezza cuore vengo la morningstar e lo scudo dovrebbe essere un po' più forte no? no è troppa cosa no è più due è più due basta solo quello c'ha le lambe livellimo livellimo allora druido livello 3 ora ora c'ho scurovisione per la coriacea che serve l'amo infuocata buona ferra infuocata buona collato di vento rispardare il metallo questa è buona che vi faccio le armi di fuoco invocare persona crescita di spino come sotto classe 4 elementi mano aperta via dall'ombro 4 elementi prendo 3 incantesimi è in base a come vuoi giocare da vicino da lontano pure da lontano ti servono cioè devi avere degli incantesimi via dalla mano aperta vuoi senza armi praticamente eh però cioè tu sei di più in milì diciamo eh appunto e incantesimi non ce ne hai no? penso no però adesso no ecco via quella con l'incantesimo questo dà atterramento stordimento e spinta e fanno 8-18 danni a mano a mani nude mentre via dell'ombra è tutto per essere furtivo eh a te non so vuoi essere furtivo? io sono nato furtivo allora vai di più via dalla mano aperta dove era quella della spada infuocata riscaldare metalli ah no questo è per i nemici di sì vabbè ma è buona per la cosa togliamo ondatonante mettiamo sfera infuocata e basta beh basta gail sali pure tu due incantesimi che ti do steratura arcana non ci serve lo sai che quasi l'ingresso secondario per i trubini sì che salvi sazza dopo prezzo arma magica eh un po' di un gioco è un'arma che diventa magica e ottene un buono schiume attiri per colpire ragionovente però pure questo è buono passo a felpato spero infuocata strage bravi spina no prezzo acido di merito da acido buono boh fatto pure gail ok siete andati avanti o stent sono andato avanti a raccogliere un po' di robe o niente ah ok sono qua praticamente all'ingresso secondo la tele possiamo fare una cosa se vuoi prendere carlug ora io salverei e stacco perché sono i 7 metri devo dare poi il giallo l'uso si si va bene dai commetto qui andiamo all'accampamento salviamo e basta perché l'accampamento perché dobbiamo ripristinare tutti gli incantesimi meglio che quando ritorniamo ci abbiamo tutto ok no non riposiamo salviamo direttamente e basta e no devi riposarci non che cazzo il senso ha dopo quando ritorniamo guardami e ora mi potrebbero guardare e ti smembrare un po' di tutto prima è così l'accampamento non mi ricordo è solo dopo ma ora in teoria il prossimo passo è di minare l'accampamento quindi mi credo non succederà non succederà no vieni qua che facciamo anche riposso comunque sto qua c'è da parlare anche con l'apizzito ah ma quello tanto non sarebbe un cazzo quindi non la cambiava serve solamente cambia classe di anima se cos'è muore però costa 100 monete a botta quindi ci abbiamo 196 ok che non abbiamo venduto niente ma un testo umano 128 di monete 196 eh siamo già a 400 monete praticamente sì ma tanto noi non moriamo siamo oppi ora ho notato io sono un druido abbastanza scemo l'intelligenza ciotto ma non so perché nei nostri nelle nostre avventure nei nostri gruppi non è che sono tutti gruppi di ammerda sì non so perché no sono un druido normalmente dovrei avere un po' di intelligenza no non ho detto ma sono un druido eh ma le tue basi di più su saggezza e carisma su saggezza boh direi che interrompo la live che non c'è nessuno non c'è nessuno